La terra è sempre stata terra di emigranti, da partire dall'unità d'Italia, ma forse anche prima. I primi andavano nell'America del Sud, nel Rio Grande del Sol, e addirittura lì ci sono delle comunità, partite di qui ancora nel XVIII secolo, che è l'unico posto ormai dove si parla del nostro antichissimo dialetto, e sono rimasti lì, conservando le usanze nostre e anche la lingua, che qui è andata persa. Poi anche recentemente, dopo anche la seconda guerra mondiale, negli anni 50, sono partiti a centinaia dalle nostre montagne e andavano per lo più in Argentina, in Canada e in Australia. I nostri emigranti sono per viaggi lunghi, non fanno i pendolari, vanno via e passano gli oceani. Fanno scelte definitive? Definitive no, forse stando lontani sentono più la nostalgia e siccome c'è molta distanza, dicono che c'è meno probabilità di ritornare, ossia è un po' un amore e odio che hanno, vorrebbero ritornare ma non ci riescono, perché la distanza è grande e poi anche il viaggio verrebbe a costare. Ma comunque adesso in questi anni molti vengono a fare le vacanze qui, quelli che sono riusciti ad avere un po' di fortuna. E che contatto cercano di tenere con la montagna, con Asiago, con i posti qui intorno? Scrivono? La prima cosa che vedono, la prima cosa che vedono i nostri emigranti è la differenza del paese da quando sono partiti a ora, ossia vengono qui e dicono ma noi siamo andati in America o siamo andati in Australia, l'avete qui la vostra America, la vostra Australia ora, che vedono le seconde case di villeggianti, le terze case, i condomini, la gente che va a lavorare in macchina e veramente loro quando sono partiti si andava tutti a piedi e si andava nel bosco a fare la legna e chi poteva lavorare veramente era un fortunato. Qualcuno di questi emigranti ha dei contatti con lei? Certo, io ho un fratello in Melbourne e una sorella in Chicago e naturalmente oltre a questi ho anche molti amici, mi scrivono amici che erano come in guerra in Russia o in Albania che sono emigrati e mi scrivono così magari per cercarmi, per avere notizie, per vedere quanto siamo rimasti vivi da allora e mi vengono anche a trovare quando rientrano per le vacanze o che fanno il giro per ritrovare i parenti. Forse ci sarà qualcuno di questi emigranti che si riconosce nella storia di Teinle Bintar? Beh, direi sì, insomma, direi anzi più di uno. Le mie storie hanno sempre dentro questo problema dell'emigrazione e di conseguenza i miei lettori all'estero sono i nostri emigranti. Oltre, beh, le traduzioni, questa è un'importanza, ma loro vengono su o si fanno comprare il libro quando vengono qui o il Sergente o la storia di Teinle o il Bosco di Loro Galli, che sono quelli che a loro più interessano e più sono affini alla loro mentalità di paesani. Io credo che la tradizione paesana e l'amore per il paese, direi, è rimasto più lì dove si trovano, magari cantano le vecchie canzoni, che non tante volte nei nostri paesi, che si sono un po' troppo, direi così, diventati un po' troppo cittadini.